Siamo molto felici di essere attraversati Nonostante c'è anche un impegno organizzativo da parte del Comune a mantenere la sicurezza di tutti i cittadini e di tutti gli automobilisti che sono in questo momento bloccati Siamo orgogliosi anche perché siamo le colline del Verdicchio che sono una realtà di rilevanza anche nazionale e internazionale Quindi che il Giro d'Italia attraversi le colline del Verdicchio è un'occasione storica per tutti noi, per l'economia, per il paesaggio e per il territorio Il campione della Russia Prucinski e lo spagnolo Paolo Lastrasse Vattaccio 8 minuti e mezzo sul gruppo Grazie! Grazie! Grazie!